Gianrusso, mi aiuti lei? È una storia molto brutta, naturalmente va tutta la mia assoluta solidarietà a quei lavoratori e a tutti i lavoratori, in tutte le condizioni, anche perché ieri ho avuto un piccolo battibecco in rete perché un noto politico, un mio collega europarlamentare ha definito scappati di casa, 3.000 lavoratori che hanno vinto un concorso. Oggi viene e glielo faremo a ridire in diretta che non pensava quelle cose. No, ma io voglio dirlo, Mirta, perché tu ti metti la sciarpa, è giusto, giustissimo, dopodiché è vergognoso che un esponente delle istituzioni definisca 3.000 laureati, vincitori di concorso pubblico, scappati di casa. Se la smettessimo di parlare così di lavoratori avremmo fatto un passo avanti, primo. Però restiamo da una mano ai lavoratori da Goldoni, Gianrusso. Assolutamente, è giusto.